Ma sicuramente quello che sta succedendo in Iran sulle leggi sulle donne, sicuramente, ma ce ne sono veramente tanti. Le abbiamo anche qua in Italia sull'aborto, ne abbiamo mille. Purtroppo il mondo va tanto velocemente e proprio perché va velocemente dobbiamo cercare di tenerci quello che abbiamo conquistato in tanti anni di battaglie. Quindi, ripeto, sono sempre delle cose dove bisogna fare molta attenzione perché riguarda la vita quotidiana di tutti quanti, del mondo che ci circonda. Non possiamo concentrarci solo ed esclusivamente sul proprio lavoro. Oggi parleremo del digitale, soprattutto nello sport, come la carriera di uno sportivo, non soltanto di uno sportivo, ma di un personaggio pubblico, è cambiata. Non si deve più ragionare solo ed esclusivamente sul campo dove si gioca, ma anche prendersi delle responsabilità fuori dal campo su vari temi, come stiamo vedendo, soprattutto in questo periodo, ma da anni ormai abbiamo visto non soltanto gli sportivi, ma tanti personaggi pubblici che hanno sposato progetti non soltanto per beneficenza, ma anche su temi molto importanti. Dietro ci sono volte delle realtà, delle agenzie come la METE, dove diamo supporto soprattutto ai grandi atleti o anche a grandi industrie, dove devono concentrarsi sul loro mondo, ma potersi concentrare anche su quello che c'è intorno a 360 gradi. Più che altro perché hanno una risonanza molto importante, ma questo non vuol dire che tolga responsabilità tutti quanti, quando ci sono dei temi importanti sulla sanità, sulla sicurezza, su alcune leggi dove bisogna cercare di difenderle in maniera importante, questa è una responsabilità in realtà che deve prendere tutti quanti. Ovvio che fatta da un personaggio pubblico con una risonanza così importante, la notizia sicuramente gira in maniera più veloce e può spostare sicuramente più attenzione su quello, però la responsabilità è di tutti quanti, non soltanto dei personaggi pubblici.